Questa mattina gli indici azionari sembrano impostati verso l'inizio, probabile, di un ritracciamento tra questi indici, sicuramente il DAX è quello più interessante per uno short dal mio punto di vista, dell'indice sul quale appunto sto valutando l'ingresso ribassista. Benvenuto in questo nuovo appuntamento, questa è la rubrica di professione trader, dove ogni settimana vado a mostrare la mia operatività e i miei ragionamenti come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso in Airforex. Se non mi conosci, sono Damiano Zito, Presection Trader Indipendente, membro e collaboratore attivo di questa community. Allora, io in questo episodio oggi non ho da mostrare aggiornamenti sul diario di trading perché effettivamente non ho ancora effettuato operazioni nel mese di gennaio, in questo nuovo anno, quindi sono già direttamente davanti alla piattaforma di ProRealTime con il grafico del DAX per fare dei ragionamenti sul grafico. Sono ragionamenti che hanno un filologico, che seguono quella che è la metodologia Airforex e quindi diciamo una sorta di checklist che vado un po' adesso a condividere e quindi a seguire in questo video. L'ho riportata qui sul grafico così da mantenere un ordine. Parto quindi a fare questo recap sulla struttura, è inevitabile ed è chiaro dire che siamo su un mercato, un mercato long, lo vediamo sicuramente dal medio-lungo periodo, è un mercato long, ok? È abbastanza chiaro, però a noi ci interessa un po' l'ultima, diciamo, l'ultima parte di questo mercato. Quindi parto appunto dal, vado insomma da fine ottobre a vedere questo swing di mercato che è stato fatto tra la fine, l'inizio di, fine ottobre e inizio di novembre, quindi il mercato è salito con una certa forza, abbastanza imponente, poi si è fermato proprio verso dicembre, primi di dicembre. Con una prima candela di esaurimento di volatilità, una pin bar, se vogliamo, che registra anche nuovi massimi storici, rompe 17.000 punti e con valida, con valida ribasso, ma rimane congestionato per poi farci vedere un, diciamo, un'ulteriore intenzione. Questo è un trigger operativo per, quindi un segnale short per andare eventualmente corti su questo mercato. Sto parlando infatti di questa candela che è praticamente la candela della prima settimana di questo 2024, un trigger operativo doppio massimo lower close, cioè una candela che cosa va a fare? Ha un massimo e un minimo che praticamente vanno a inglobare la candela precedente, il massimo praticamente di questa candela è più alto del massimo precedente, sicuramente, poi anche la chiusura è più bassa, cioè inferiore al minimo della candela precedente. Queste sono le caratteristiche del doppio massimo lower close, che solitamente non necessita di convalida, però diciamo che convalida lo swing chiaramente alla rottura del suo minimo, quindi con il prezzo che torna su questi livelli. Per quanto riguarda poi appunto gli swing di mercato, questo appunto era l'ultimo swing high, lo swing low, se andiamo a vedere il mercato, almeno per come guardiamo noi il mercato in Airforex, l'ultimo swing low importante, praticamente risale al 23 di ottobre sul settimanale, quindi questi due sono le swing più importanti, adesso in termini di prezzo, lo swing high registrato dal mercato è il 17.000 punti, quindi lo swing dell'11 dicembre, qui c'è stato uno swing low in realtà, che è avvenuto appunto il 18 dicembre, se vogliamo, eccolo qui, quindi qui c'è stata una sorta di 1, 2, 3, che va poi a creare questo massimo che ancora non fa swing, ma appunto come dicevo prima, andrebbe a crearlo, a convalidarlo nel momento in cui il prezzo torna intorno ai 14.440, o meglio sotto i 443 punti. Ok, quindi questi sono gli swing, per quanto riguarda invece i livelli, sicuramente possiamo, io qui ho tracciato il 16.800 punti, cioè 16.800 è sicuramente il livello dove in questo momento il mercato ha dato chiara indicazione del fatto che non c'è voglia di andare sopra, perché dopo questa candela che chiude appunto in zona 16.800 c'è stata una rottura a rialzo, ma c'è stata poi una chiusura al di sotto, poi il prezzo, se andiamo a vedere settimana per settimana, non ha mai avuto più la forza di chiudere al di sopra, quindi ho settato, diciamo, il livello su questo numero tondo. Altri livelli importanti sono sicuramente questo 16.300 punti circa, e poi se andiamo un po' più in basso possiamo individuare l'area di 15.550. Questi siamo, sono chiaramente, poi qui abbiamo qualcosa di intermedio, probabilmente in zona 16.000, 16.015.9, però insomma queste sono le due aree più importanti per quanto mi riguarda. Detto questo, andrei un po' a vedere, volevo andare ad analizzare un po' la dinamica nel breve. Il prezzo al momento si trova sui 16.500, che rispetto appunto ai massimi, siamo a, quindi, 500 punti sotto a questi massimi storici, questo livello era 17.300, quasi 17.400, almeno, sul CFD di G. Volevo vedere, quindi, questo tipo di dinamica, cioè come si stava muovendo il prezzo qui, che è appunto la dinamica che si è generata a partire dalla 14 dicembre, quindi questo è sempre un doppio massimo, l'overclose, che effettivamente ha mostrato, come dire, l'intenzione da parte del mercato di fermare la sua salita. Allargo il grafico, in maniera tale si possa capire un po' di più, e come possiamo andare a vedere, effettivamente qui c'è stata la convalida del prezzo, quindi alla rottura di questo minimo. Poi il mercato ha lateralizzato, ha fatto una falsa rottura della zona pullback, ma praticamente del livello di 16.800, con questa pinbar, che è stata convalidata, ha fatto anche il suo movimento, e poi il 5 gennaio crea una pinbar sul 161.800 di questo trigger, quindi questo, che lo chiamiamo anche T3, con un ritorno di volatilità rialzista, quindi due giornate, ma che non riescono praticamente a raggiungere neanche i 16.800. Il prezzo quindi cosa fa? Rimane ancora in congestione, poi riprova ulteriormente con un aumento di volatilità, e torna giù con un ulteriore tail bar, se vogliamo, questa è una candela che ha diverse caratteristiche, perché è sempre un doppio massimo l'overclose, anche se mi piace poco il fatto che abbia lo spike uguale ad entrambi i lati, comunque anche inside fake out, adesso andiamo a vedere, e è questa tail pronunciata, questa coda pronunciata, che fa praticamente falso del 16.800 punti. Mercato che poi con gestione, poi ieri, crea questo ulteriore candela, che anch'essa, diciamo, crea falsa rottura dei massimi precedenti, poi il mercato è venuto direttamente giù stamattina, convalidando sia questo pattern, che lo swing, lo swing A è di breve, che è questo livello. Dicevo che questa candela è anche un inside fake out, perché effettivamente il livello di minimo che stavo monitorando è proprio il livello dove ci troviamo adesso, quindi circa 16.515, cioè il minimo di questa candela, dove se ci facciamo caso, come il prezzo rispetto a questo minimo massimo è rimasto sempre abbastanza dentro, quindi, metto così, eccolo qui, diciamo che c'è stato questo massimo, questo minimo, il prezzo da qui non è mai riuscito a, nelle ultime giornate, a chiudere sopra o sotto. Oggi potrebbe effettivamente dare una conferma ribassista, per esempio con una chiusura proprio sotto questo minimo, minimo che alla perfezione sarebbe 516,6. Bene, quindi diciamo questi erano alcuni dati, volevo vedere su come si sta muovendo il prezzo nel breve, ha appena swingato, tra l'altro, sempre nel giornaliero, quindi molto interessante. Per quanto riguarda poi la volatilità, e vado su questo punto, quello che si può notare guardando quello che è stato un po' il rialzo, la volatilità delle ultime settimane, è che il mercato qui veniva appunto con questa vola rialzista molto importante, qui si vedono candele con un bel corpo, che poi appunto sono state spente, schiacciate da un mercato un pochino più compresso, ma che sta aumentando sempre più volte, diciamo la sua volatilità al ribasso. Quindi lo vediamo qui, lo vediamo qui, lo vediamo qui, qui effettivamente c'è stato un ritorno rialzista, un ritorno rialzista, ma abbiamo visto come la fascia, la zona di 16.800 è stata praticamente il tetto massimo, quando il prezzo ha provato a rialzarsi, ad andare sopra, poi c'è stato di nuovo aumento di volatilità ribassista, c'è stato appunto nella sessione di mercato dell'11 di gennaio, c'è stato un po' ieri un ulteriore ritest, se vogliamo poco sotto i 16.800, e di nuovo ritorno ribassista. Quindi si vede come il mercato effettivamente, chiaramente non ha voglia di andare al rialzo, e quando c'è rialzo comunque tornano i venditori. Quindi un mercato sicuramente non ancora ribassista, lo abbiamo visto, un mercato ancora long, ma stanco del, insomma, non ce la fa salire, questo è il senso. Se vediamo un po' di confluenze, anzi, prima delle confluenze, vediamo i trigger, andiamo a vedere qual è l'ultimo vero trigger, io direi, quello mi piaceva un po' di più, era probabilmente questo, ok? In realtà mi piace proprio la dinamica adesso, come si è costruita più che un trigger in sé, però questo swing mi piace molto. A partire però già da questo, ok? Da questa informazione di prezzo, possiamo vedere come il mercato effettivamente aveva, appunto, arrestato questa sua prima discesa su questo livello, e qui potrebbe ancora fare un po' di rimbalzi. Tra l'altro, questa è una zona, se andiamo a vedere, è la zona che il mercato probabilmente, anzi, senza probabilmente, è proprio l'ultima zona rotta dal mercato, l'ultimo massimo, ecco, rotto dal mercato, vediamo qui, nel luglio 23. Vado a prendere un, appunto, lo strumento, per tracciare, ecco, le zone che mi dà TradingView, questa zona qui, vediamo come effettivamente, questa era proprio l'ultima zona di massimo, ed è la zona, la zona attuale, dove effettivamente c'è adesso un po' di, di congestione. Però, diciamo, non è una vera confluenza, in termini di acquisto, nel senso che, è una zona dove effettivamente, ci possono essere ancora rimbalzi, perché, se guardiamo proprio gli interessi, che ci sono stati qui, sono stati interessi alla vendita. E, guardandola ancora più nel lungo, qui potrebbe, potrebbe addirittura verificarsi, qui, diciamo, vado un po', diciamo, a idealizzare un po' quello che potrebbe essere, diciamo, una dinamica di questo tipo, cioè, un, magari anche un mercato che torna un po' più giù, non è detto che questo, adesso, vada, eh, per forza, eh, su, lo sappiamo, però potrebbe essere, nel medio, lungo, un, come dire, una, questa si potrebbe poi rivelare addirittura, come una grande falsa rottura, eh, di questi massimi. Però, questo, non è, diciamo, non è lo scopo di, eh, di questa analisi, è qualcosa che può avvenire, ma, come sempre, noi facciamo trading di, di breve termine, e quindi, seguiamo il prezzo settimana per settimana, con un time frame operativo, che è il, il giornaliero, e quindi, siamo agili e flessibili per questo motivo. Eh, ce lo dirà poi il mercato, cosa avrà l'intenzione di fare. Quindi, le zone di prezzo, eh, conflu, dove c'è sicuramente confluenza, abbiamo visto, stavamo vedendo, appunto, il giornaliero, a partire da questa dinamica, sono sicuramente, la zona, dei sedici, eh, sedici e tre, quindi, confluenza, confluenza, diciamo, il sedici e tre con, t quattro di questa dinamica, probabilmente, ci sarà, così a occhio, il t tre di questo, eh, di questo swing, cioè il centosessantuneotto, quindi, adesso abbiamo confluenza tra, sedici mille e tre, e il duecentondici ottanta, di questa, eh, di questa candela, e poi, probabilmente, la zona, lui ha un sedici, questa sarà una zona sedici e cento, che è questa zona qui, dove io non ho un livello, però potrebbe esserci qualcosa di, di mezzo, insomma, vediamo un po', mh, sicuramente, secondo me, se ci sarà, eh, diciamo, almeno verso i sedici mila, può darsi che il prezzo deve scendere bene, il mercato ci può, eh, ci può arrivare, quindi, levo un attimino questo, eh, questa, questa estensione sul, eh, su questo, su questa candela, su questo trigger, e vado adesso sull'ultimo, eh, sull'ultimo swing, che è, questo, ok, swing, che effettivamente adesso ci mostra, vediamo un po', queste, eh, confluenze, siamo sempre, va bene, in zona 16.000, 16.100, 16.020, insomma, questa zona, questa si vede più nel, nel daily, qui c'è stata una pausa da parte del, del prezzo, voglio vedere un attimo di nuovo, il settimanale, settimanale che effettivamente, ecco io, allora, per quanto mi riguarda, diciamo, i livelli più interessanti sono ancora, il 16.3, e il 16.000, eh, pardon, il 15.6, questa zona qui, questo, questo box, è chiaro che, eh, in mezzo qui c'è stato, no, una piccola fascia di prezzo, dove c'è stato, eh, come dire, ci sono stati dei rimbalzi, quindi la zona dei 16.000, potrebbe essere, diciamo, una zona da, eh, da attenzionare, per eventuali posizionamenti short, anche se, insomma, ci si potrebbe posizionare, con, dei target un po' più in, eh, basso, comunque, il, il trigger daily, esaurirebbe il suo 261.8, in questa zona qui, poi abbiamo, quindi, eh, 261.8, quindi, T5, T6, 342.70, in zona 15.000, 15.008, molto, molto interessante il 15.008, vediamo un po', sì, perché anche qui, sempre, ecco, questa fascia, fascia intermedia, è, è molto interessante, perché se c'è, se c'è vendita, c'è pressione sul, sul DAX, magari, il prezzo viene giù, viene giù, fa qualcosa del genere, si spinge, magari, fine 15.008, e poi, magari, ritorna al, al rialzo, non è detto che arrivi proprio su, su questa zona, di, eh, ex acquisto, per, per il mercato, quindi, secondo me, diciamo, questa, questa fascia, è da attenzionare, questa sicuramente, e, infine, insomma, vediamo queste confluence, con quelle che sono, le, eh, estensioni, di, eh, questo swing, vediamo effettivamente come, il doppio massimo, eh, settimanale, cioè questo, questo 0, 100, ha, poi, a sua volta, un, eh, 211, 80, proprio, a 15.866, che è appunto, il mezzo, eh, qui in mezzo, quindi, diciamo, rimane, rimane molto interessante, questo, questa, questa fascia di prezzo, eh, bene, quindi, questa, eh, questa è l'idea, eh, sicuramente, essendo, mh, un mercato, quello del DAX, e quando ci sono vendite, può andare, a ribasso, anche in maniera veloce, e pesante, potrebbe, per quanto mi ricordo, vale la pena, magari, posizionare un ordine, più in basso, cioè, comunque, posizionare un ordine, intorno, intorno a queste zone, andare qui, diciamo, sui 15.6, la vedo un po', un po' più lunga, però, insomma, non è, non è infattibile, vediamo un po' anche quest'altra cosa qui, che ci penso, vediamo un pochino, ecco, eh, sì, 15.800 sarebbe il 50% di questo 0-100, quindi, mi piace di più, questo tipo di confluenza, no? Quindi, proprio 15.800 tondo, sarebbe, quasi, proprio il target, che potrei mettere, sul, sul trade, in, in macchina, qualora lo volessi fare. ehm, può fallire, l'idea del, dello short? Sicuramente sì, e come? Allora, ehm, adesso, se guardo un po' il, il settimanale, quindi non vado un attimo sull'esodellice, se non vorrà, qualche secondo, l'idea è che qui, effettivamente, dopo, eh, la rottura di questo minimo, il mercato possa, eh, aver fatto, anche il fake di solo questo minimo, quindi neanche del, del doppio, eh, doppio massimo, e quindi potrebbe, potrebbe tornare su, quindi, un mercato che, o continua a congestionare, e quindi non fallisce di molto la view, oppure proprio fallisce nel momento in cui la mia candela, eh, in questo caso nera, ribassista, diventa una candela che ha fatto il fake a 15.000, 16.516 circa, torna su e mi chiude la settimana sopra i, eh, 16.800 punti, quindi una candela che ha, insomma, una, una ripresa, una ripresa importante su, su questa zona, quindi mi sta dicendo che dopo aver rotto questa zona, quindi, eh, i 16.480, non ne vuole che sapere, quindi probabilmente, anziché valutare lo scenario, anche ribassista qui, possiamo tornare a valutare, eh, un, una continuazione long, e poi, cercando poi, gli swing, di conseguenza. sinceramente, ecco, ecco, questa è la situazione, sinceramente, al momento, non vedo, non vedo questa, questa forza su, sul DAX, eh, l'idea del, dello short, mi sembra, mi sembra più matura, e dove entrare, come entrare, io potrei entrare anche a mercato adesso, sinceramente, perché mi piace la dinamica, eh, potrei, eh, potrei fare questo tipo di, di ingresso, at market, oppure un, ad esempio, un sell limit, un i5.50, cambia poco, sinceramente, per il mio trade, e, mh, mi vorrei posizionare, più o meno, più o meno su queste zone, 16 a 9, se non addirittura sopra, è una cosa, eh, mh, diciamo che, allora, se metto uno stop un po' più ampio, quindi, 17.020, qualcosa del genere, comunque, un ritorno qui, c'è una chiusura, supponiamo questa candela, oggi, va a fare, eh, una chiusura bullish, così, per esempio, ok, c'è aperto qui, ma, facciamolo meglio, l'ho aperto qui, va bene, insomma, va su, pum, e, ha aperto qui, quindi mi va a fare una chiusura, di questo tipo, quindi, a quel punto, mi ha creato una falsa rottura, io probabilmente esco, quindi, 16.800, chiusura sopra, esco, meglio, se chiude addirittura sopra questo, quindi, magari, ecco, una chiusura ancora più forte, vorrei vedere, una chiusura qui, è una cosa che può succedere, sì, può succedere, chiaramente, perché torna, torna la volatilità, rialzista, questo è, questo è chiaro, e in maniera, appunto, evidente, a quel punto, rimanevamo ancora un po' incastrati, però, insomma, non, non mi piacerebbe rimanere al mercato, perché 16.800, abbiamo già discusso prima, ma l'ho già discusso prima, è il livello dove non voglio vedere, tornare su il mercato, e da, ormai, dal 14 di dicembre, neanche sul giornaliero si vede, una chiusura sopra, non si vede neanche sul, sul giornaliero, quindi, ora, qui l'idea è, o mettersi, per esempio, rispetto a questo swing, a 17.000, o anche, vabbè, cambia poco, a me piaceva molto questa, secondo me, comandava questa, chiaramente, adesso c'è l'inside, il pack out, rispetto, diciamo, rispetto questo, questo massimo, 840, considerando il DAX, è possibile, che io vada a scegliere, un livello un po' più basso, cambia poco, cambia pochissimo, non cambia molto, effettivamente, 930, come 17.000, sono 30 punti, non è, non è tantissimo, su questo tipo di, di trade, adesso siamo, a 16.518, toma l'idea, l'idea è fare questo, questo tipo di trade, Siamo adesso, alle 12.28, il 6 ore, quindi che, sta per chiudere, quindi, dalle 7 al mattino, più o meno, queste sono le contrattazioni, sì, c'è stata, c'è questa tale, ma, il mercato è debole, il mercato in questo momento, è debole, potrei, potrei appunto, inserire l'ordine, probabilmente dopo, dopo questo video, e quindi, valutare magari, i 5.50, ammesso che il mercato, ce la faccio, comunque entrare, at market, questo diciamo, è, la situazione, il 4 ore, simile, insomma, non cambia molto, anche qui, siamo partiti alle 9, c'è due, due ore e meno, di contrattazione, probabilmente, attendo, attendo questi 30 minuti, di mercato, e decido, se inserire, un sell, un sell stop, o un sell limit, meglio, magari più o meno, qui, 15.000, 16.540, cambia, cambia sinceramente, molto, molto poco, e lo stop, lo stop, probabilmente, poco sopra, questo, questo massimo, che, 16.960, magari, 980, ecco, diciamo qui, secondo me, già, siamo, siamo abbastanza, ampi, quindi, questo è il ragionamento, che sto facendo adesso, sul, sul DAX, l'ho condiviso, con te, insomma, in questo video, ti ricordo, di, commentare, questo video, con la tua view, la tua analisi, con, insomma, un apprezzamento, se ti è piaciuto, questo video, magari mettendo anche, un mi piace, oppure se c'è qualcosa, che, invece, tu stai facendo di diverso, fammela sapere, faccelo sapere nei commenti, e, discutiamoli, quindi, per oggi è tutto, io ti ringrazio, ti saluto, e come al solito, ti auguro, buon trading, alla prossima, ciao.